L'avvio dell'anno è stato particolarmente negativo, cosa che ci ha colto di sorpresa come la maggior parte degli investitori. Abbiamo avuto infatti nello stesso momento un ritorno all'attualità della crisi cinese con la svalutazione della valuta cinese e un ritorno di preoccupazioni per l'economia mondiale. A questo si sono unite le tensioni in Medio Oriente e, cosa questa più specifica del nostro mercato, un nuovo momento di crisi per il nostro settore bancario. Tutti questi elementi hanno fatto sì che la performance dei mercati sia stata fino ad oggi molto negativa. A questo punto noi abbiamo sposato uno scenario più prudente sia per quanto riguarda la componente ciclica proprio perché il rallentamento dell'economia a livello sia degli emergenti e i timori che questi stanno portando su quella americana e quella europea pongono dei dubbi sulle stime dei risultati delle varie componenti industriali e cicliche e quindi ci sono stati numerosi downgrade da parte delle banche d'affari e tendenzialmente un po' di flussi di alloggerimento su questi settori. Venendo invece al nostro settore bancario, su questo la nuova crisi è causata dall'ipotesi che si fa sempre più strada che in vista della creazione della bad bank, cosa che tra l'altro è anche sempre difficile per i rapporti fra Italia e Europa, si debba procedere a ulteriori svalutazioni dei crediti dubbi e delle sofferenze delle banche, cosa che in ultima analisi potrebbe portare ad aumenti di capitale delle banche più deboli. A questo punto la situazione è molto confusa perché come dicevamo prima siamo proprio in questi giorni nella fase di dialettica fra Italia e Commissione Europea per far passare la bad bank, dove la Commissione Europea vorrebbe un prezzo particolarmente basso per il passaggio dei non performing loans all'eventuale bad bank creata con l'aiuto dello Stato italiano. Questo farebbe sì, come dicevamo prima, che alcune banche si trovino sotto i requisiti minimi di capitale e quindi debbano procedere a nuove recapitalizzazioni. Questo ha creato una particolare preoccupazione sul settore con flussi di vendita molto forti su tutti i titoli e su quelli più deboli in particolare, come dicevamo prima. Questo anche perché gli investitori esteri si erano posizionati molto sul settore volendo giocarsi le aggregazioni fra le banche medie, piccole e italiane. Ora con questo nuovo scenario chiaramente la maggiore incertezza porta tutti ad alleggerire le posizioni e i ribassi che abbiamo visto fino a questo momento. Pertanto, come dicevamo in precedenza, l'idea è quella di essere un po' più prudenti a livello di allocazione cogliendo poi i ribassi che si stanno verificando per rafforzare le posizioni sui titoli che possono essere maggiormente interessanti perché più legati magari ai consumi domestici europei dove la situazione invece dovrebbe continuare a essere favorevole e sui titoli più difensivi che continuano a essere favoriti dai bassi tassi di interesse. Un altro settore particolarmente colpito è stato quello petrolifero a causa del forte ribasso del prezzo del petrolio. Anche in questo caso la situazione non è particolarmente favorevole perché non si vede a breve un recupero del prezzo, tuttavia forse in questo caso i titoli sono già stati particolarmente penalizzati anche se bisognerà aspettare una stabilizzazione e poi un recupero del prezzo nei prossimi mesi.